Questa sera, nell'analizzare la sconfitta per 1-0, gol di Mancini da fuori area. Parto quasi dalla fine. La reazione di Ken è ingiustificabile, perché si è entrato da 10, 15, 20 secondi al massimo. Se ci sono dei problemi, perché a me viene a pensare che l'abbia fatto apposta, se ci sono dei problemi perché sei entrato così tardi, ne discuti con l'allenatore, ne discuti con lo staff, ne discuti col tuo procuratore, chiedi di andare via, chiedi maggior spazio, ma non metti in difficoltà la squadra. Cioè questo è stato il problema, perché la sensazione è stata proprio un volerlo fare apposta. E queste cose non mi piacciono. Non si è perso per quello, che sia chiaro, però questa è una cosa che va detta con grande chiarezza. Non mi è piaciuta la Juve stasera, perché secondo me la Juve non ha fatto una gran partita stasera. Nonostante questo, all'interno di quello che abbiamo visto questa sera all'Olimpico, credo che la Juventus non meritasse la sconfitta. Credo che sia stata una delle rare occasioni nelle quali abbiamo trovato di fronte a noi una squadra forse con meno iniziativa rispetto alla Juventus. Una squadra a Roma che ha giocato una partita molto attenta. Sapevamo che era una squadra che faceva particolare attenzione e prestava anche molto valore alla fase di non possesso. Una squadra che in casa aveva subito solo cinque gol, e anche questa sera chiude con un clean sheet, la miglior difesa interna del campionato e si è visto anche questa sera. Si è visto anche questa sera. Sapevamo che sarebbe stata una partita con pochi gol, così è stato. Però credo che il risultato non sia completamente giusto. Primo tempo della Juve, dove comunque è stata la squadra con più dominio territoriale, ma poche occasioni a gol. Non sei praticamente mai andato a impenserire il portiere avversario, se non in un'occasione. Adesso cerchiamo di riepilogarle, perché comunque qualcosina si era visto. Una buona iniziativa di Costice dalla sinistra, con un cross arretrato di Maria che purtroppo spreca, perché non può intervenire ottimamente sul pallone. Poi una disattenzione al quindicesimo, Di Bala, fuoriare di Mancino, la Juve Mura con Rabbiò a peso morto. Non siamo andati a seguirlo. Non siamo andati a seguire il giocatore più pericoloso. E poi ancora una volta una mancanza di attenzione. Al diciottesimo Spenastola parte da solo dopo una punizione. Meno male che Costice arriva in aria e va a spazzare, proprio su Di Bala. E poi iniziano diverse occasioni, micro-occasioni della Juve, perché c'è Di Maria che pesca Rabbiò, viene messa fuori, Vlaovic rimette dell'aria, invece che il tiro va a cercare Fagioli dentro l'area di rigore. Palla che non passa. Di Bala da fuori aria, ancora una volta Parascesni. Occasione clamorosa questa di di Bala. Con Alexandro che se lo perde, con Costice un po' troppo centrale in quell'occasione. Al ventisettesimo abbiamo un contropiede. Costice per Di Maria, con Di Maria che scivola. Non un gran primo tempo del Fideo. Nel secondo tempo viene fuori, ma i primi minuti di partita di Maria non speciali. Poi Rabbiò per Fagioli. Male, perché Fagioli la chiedeva da un po', gliel'ha data in ritardo, gliel'ha data alzata e comunque anche Fagioli l'ha stoppata male e quindi ha permesso l'intervento del difensore avversario. E poi c'è Danilo. Danilo per Rabbiò sul secondo palo, parata di piede di lui Patricio e poi palo. Questa è l'occasione madre del primo tempo, l'unica vera occasione del primo tempo della Juventus. Se vogliamo anche della Roma che aveva avuto quell'occasione, sì, con Di Bala, ma questa è un'occasione importante. Il primo palo della serata della Juventus. Al termine della partita saranno ben tre, tre i legni colpiti dalla Juve. Che torna in campo e nei primissimi minuti del secondo tempo ci conferma quello che abbiamo visto nella prima parte. A sinistra si può far male. Costice aveva la dinamite nelle gambe, era in ottima forma e cercava, cercava di creare problemi alla Roma. Rabbiò, crossa, addirittura per Fagioli che va a fare il centroavanti in aria. Palla che non arriva alla mezzala della Juventus, che comunque ha fatto l'inserimento. Le due mezzali erano un po' la chiave della partita e ancora una volta l'avevano dimostrato. Costice a sinistra di Maria, palla che viene spazzata. E ancora una volta Di Maria, sempre da sinistra, cross basso. In anticipo ci va Smalling, non arriva nessuno della Juventus, nemmeno Vlaovic. E tre minuti dopo, Mancini è fuori aria. Si è fatto male a Alexandro, è entrato Bonucci alla fine del primo tempo. Probabilmente Rabbiò esce con un po' di ritardo. Forse Cesni sul secondo palo può fare meglio su questa sventagliata. Di certo c'è che, statisticamente, un gol del genere a Mancini viene poche volte. Ha tirato fuori il jolly, l'ha tirato fuori con noi. Abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa sulle uscite. Potevamo fare decisamente meglio. Però non gli ha detto male, col paolo di Rabbiò. E allora ha detto bene, con questa conclusione. Dopo il gol che abbiamo subito, ho visto ancora con la Juventus che, diavolo, prendo gol e quindi come faccio? Non sono più in grado di vincere la gara o di tornare dentro. Abbiamo iniziato a ballare un po' di più. La gara era stata bloccata fino a quel momento. Col gol di Mancini, molto umorali noi e molto umorali loro. Loro sembrava che avessero tirato aria dopo anni che non respiravano. E noi sembravamo una squadra che aveva smesso di crederci. Poi, però, abbiamo Quadrado, che va in chiusura su Spinazzola. E Quadrado, sempre da fermo, su punizione, che becca il secondo palo della serata. Palo esterno, quindi niente di eclatante ed eccezionale, ma è un altro legno. Punizione un po' troppo chiusa, probabilmente, ma ci stava. Il tiro da quella posizione lì. E poi Vlaovic, che non arriva sul retropassaggio di Zalensky, che rischia tantissimo. Ma quanto pare non è serata. Quanto pare non è serata. Locatelli, da lontanissimo. È il secondo tiro da lontano di Locatelli. Ne aveva fatto anche uno nel primo tempo, aveva girato troppo. Qua è stato bravo a chiudere l'azione, perché era l'ultimo uomo. Quindi calcio d'angolo nuovamente per la Juve. E poi Szczesny monumentale su Smalling, perché abbiamo dormito troppo e Smalling sul secondo palo la stava mettendo dentro. Szczesny ha aperto quelle braccia, ha aumentato il volume del corpo e riesce a chiudere un'azione che poi forse rivedendola, la replay era addirittura in fuorigioco. Ma il tempo passa. Mancano 15 minuti alla fine del secondo tempo. E quindi sotto di uno dentro Pogba e anche Paredes, dopo che Chiesa era già entrato da qualche minuto e non aveva ancora lasciato la scintilla. 4-3-3. In questo momento c'è la Juve virtuale, quella di cui parlava Allegra e sconcerti. Szczesny in porta, Bonucci e Bremer in difesa, quadrato a destra, Danilo a sinistra, Paredes a centrocampo, Pogba e Rabiola e Mezzeali. Chiesa da una parte, di Maria dall'altra e davanti Vlovic. 4-3-3. Quello che per un pezzo ci siamo immaginati tutta estate a buttare giù le formazioni col 4-3-3, quei giocatori in campo ce li abbiamo. 15 minuti più di recupero per recuperare un gol, per portarcela a casa. Di Maria da fuori area, dopo un buon dialogo con Chiesa, se ne è costruita da dietro. La Juve arriva al limite dell'area e Di Maria tira. Parata, la Rui Patricio con la mano di richiamo aperta. Dal calcio d'angolo, autopalo della Roma. Batte Paredes, deviazione. Palo del difensore della Roma che la colpisce di testa. E poi la Juve prova a chiuderla. Chiesa da fuori. Non c'è fortuna. Non c'è quella vendetta di Federico Chiesa dopo che l'anno scorso a Roma ci aveva lasciato il ginocchio. E quindi Allegri fa un altro cambio, butta dentro anche Ken. Prova a giocarsi l'ultima arma. Juve è completamente a trazione anteriore per questi ultimi minuti. Passa in pochi istanti e Ken viene espulso. Per un fallo di reazioni su Mancini che poi si lascia andare, certo. Perché Ken gli tira la pacca, lui non se ne accorge. Quando realizza si butta per terra. Ma Ken, la frittata l'ha già fatta. E non la deve fare. Per i motivi che ho detto prima. E poi la Juve ha altre due occasioni grosse perché Rabiot allarga per Chiesa sulla sinistra che rientra, carica tutto ingobbito. La sua posizione, la sua azione, l'avevamo visto col Monza, l'avevamo visto con la Spagna ma questa volta spara alto, spara salve. E poi la possibilità di pareggiarla ce l'ha al capitano. Ce l'ha al capitano perché arriva Danilo alla conclusione. Quasi un rigore in movimento dentro l'area. Troppo centrale. La Juve non riesce a trovare il gol. La Juve lascia tre punti a Roma. La Juve viene sconfitta in uno scontro diretto molto delicato. La Roma vince una partita tosta. Ripeto che secondo me non merita. All'interno di una gara dove la Juve non mi è piaciuta. Perché se ti trovi di fronte a una squadra che ti fa una prestazione come quella che ha fatto la Roma, tu la devi portare a casa. E devi cercare di aumentare il giro del motore già nel primo tempo. Dove abbiamo avuto un ritmo veramente bassissimo. È stata una partita poco divertente da una parte e dall'altra. Lo sapevamo, ce l'aspettavamo. E allora dato che sappiamo che questa partita sarà con questa impronta, cerchiamo di aumentarli da prima il giro del motore. Quanto meno per portarci in vantaggio perché è difficile far gol a Roma, alla Roma in questa stagione. E quindi proviamoci subito. Non regaliamo un tempo. Non passiamo 40 minuti senza vedere nemmeno un tiro verso lo specchio della porta. Queste partite vanno azzannate, vanno agguantate. Abbiamo la panchina lunga, la possibilità di far male anche con le sostituzioni. Sono lezioni, sono cose che abbiamo già visto in stagione. Per quello dico, la Juve non mi è piaciuta e non può piacermi questa gestione della partita da parte della Juve. Una partita che sapevamo sarebbe andata così quella della Roma. Nel primo tempo era chiaro addirittura che Mourinho volesse difendere nemmeno andando a marcare i centrali della Juve, lasciando l'impostazione da dietro ai tre brasiliani. avevamo Pellegrini su Locatelli e Di Bale e Guainaldun quasi sulle mezze ali. Da dietro fate quello che volete. E la Juve quel dominio territoriale l'ha avuto. Se la sfera gira troppo lentamente poi non vai a creare problemi. L'unica volta che abbiamo fatto palla avanti e palla dietro è arrivato il palo di Rabiotto nel primo tempo. E nel secondo tanto caos, tanta confusione. Segno che questa squadra poi, quando ha l'ansia, fa più fatica. Ma lo sappiamo! La Juve ha vinto quante volte avendo preso un gol all'interno di una partita tre volte in stagione? Quando abbiamo preso il gol di Mancini ho detto ahia, stasera non si vince. Ma da qui a perdere. Maggior ragione dopo un triplo regno, legno e con Mancini che da fuori aria tira fuori quel gol dal cilindro. Un coniglio, veramente un coniglio dal cilindro. Non vado a letto contento, è come potrei. Non sarei stato contento nemmeno in caso di pareggio. Probabilmente sarei stato insoddisfatto anche in caso di vittoria per quanto riguarda la prestazione. Perché sono quelle piccole cose che la Juve, che piccole, che poi sono grandi, che la Juve deve migliorare. Perché se vuole cercare di gustarsi un finale di stagione importante in Europa Liga, in Coppa Italia, queste cose vanno sistemate. Perché se no giovedì il Friburgo di turno, che è una squadra che gioca in un campionato intenso come la Bundesliga, se vai al ritmo che hai tenuto il primo tempo, non trovi la Roma. Trovi una squadra come la Roma. Trovi una squadra che in Europa League vuole provare a fare l'esploit. Vuole provare a salvarsi la stagione ancora di più. Vuole provarsi a regalare una nottata indimenticabile eliminandolo a Juventus. Serve di più. Serve di più. Quindi, secondo me, non meritavamo la sconfitta. La Roma ha fatto peggio di noi. Ma noi siamo un po' polli. Ci continuiamo a marzo, a marzo, a non aumentare i giri del motore. Anche con tutti a disposizione. E quindi non c'è nemmeno più il discorso di dire, ma sai, se poi non tengono tutta la partita, ce ne sono degli altri in panchina. Sono forti uguali. Perché abbiamo la fortuna di avere una rosa lunga e qualitativa. Quindi bisogna svegliarsi. E cambiare qualcosa. È marzo.